bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video andiamo allora stiamo andando al castello questa già potenziando come un drago mi scusi fai sboccare la taglia su fai sboccare vediamo che tra l'altro sono qua ok attenzione ci gioco la sera quando mi rilasco io oddio ieri ho fatto una partita al game boy ho cacciato dentro ho cacciato dentro pokemon giallo ho fatto un giro io giocavo vabbè che quale tipo argento allora era il boy game boy color molto molto carino c'è jet è qua e qua e qua e dov'è e non lo so ma è qua prendiamolo sono in casa pizzo sono in casa per forza se non si aggiorna la taglia sono in casa c'è giornata ecco lì ecco lì ecco lì ecco lì davvero arrivo 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 questo all'olio fino al club mi faccio se non sono in che voglia di andarli su a prendere a botte dico la verità guarda quello da me sto me la sto rischiando un po' arrivo 56 48 bianco guardio le dico ho preso un cazzo e mo venne andata a casa in silenzio ma lo sa chi erano erano quelli lì italiani quelli lì con la taglia fai sbocchiare capito no no esatto ma proprio alla grande adesso torno a giocare con i teletubbies mi hai appena killato? ah lo so brucio capito arriva anche in chat a dirlo boh a me quando dicono così io prendo e banno instant proprio no ma come? si 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 dice che lo fanno apposta? non lo so anche io non voglio ignoranti in chat c'è troppa gente e voglio che ci sia rispetto per chi guarda e per me soprattutto mentre sono... arrivo? all'aria qua per fortuna c'è so sono un drago delle nevi mi ha laserato un altro cazzo mi devi venire da dare una mano che sono... eh arrivo arrivo ho preso il cazzo io qua eh esci di uno sono uscito sono uscito a posto non so perché 24 blu alla dynamo mi curo un attimo eh ma è uno è uno c'ho la safe c'ho la safe morti buono 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 io me ne andrei velocemente si chiama di andarsene fuori dalle palle almeno andare in safe andiamo 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 easy c'è uno che dice che l'ho killato non vi è in chat dice ah mi hai killato magari dicevo bella acceder stavo giocando ero io quello è vero quello è vero diciamo che c'è modo in modo dai eh si capisce subito e al fatto che uno te lo viene a dire è un po' così dobbè rientrare bene eh qua perché è lunga non lunghissima io sono a farmi le cure qua devo farmi dei gran mezzo assolutamente sì possiamo vedere a sinistra se ci sono i non ci sto credendo non si fermi eh vai 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 non fermarti piuttosto build manetta 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 ti stacco l'acceleratore easy 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 non possono prenderci oh ma io ho tre medikit adesso cambiamo il posto ok io starei sulla parte sinistra un attimino adesso ho messo abbastanza bene io non ho shield al fruttetto siamo più tranquilli siamo Nico per favore è partito lo spam è partito lo spam è partito è partito stanno spammando come i draghi 30 volte a dire c'è la click andiamo 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 venga 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 un botto di oro devo farmi lo scatto eh pure io c'ho 2,29 vai 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 a craghi a craghi secondo me no non ce la si fa secondo me non c'è un posto per potenziare qua ma quanto si è infilato il sire no che schifo sire l'ho visto ho guardato un attimo la feed delle donazioni tra c'è scritto Nico 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 il sire io non andrei io non andrei no non andiamo non andiamo troppo rischiuso no catta no vabbè niente niente sono partito a spammare ho partito a spammare niente eccomi eccomi andiamo in zona andiamo in zona ho risposto la risposta è la conversazione tra due patti non so perché sta continuando a suonare tutto porca c'è un prelibac che ho bucato ho bucato un prelibac arrivo ma ho bucato un prelibac eh l'ho mancato l'ho mancato ma comunque è cammino la vinciamo questa la vinciamo la prelibac al distributore la prenderei il drop io è qui di fianco andiamo io sono full di tutto mi ha fatto i grandi non possiamo parlarvi assolutamente di quello che stiamo parlando ragazzi mi ha perduto quanto guadagna al mese ragazzi ha detto tutto ha detto che c'è già pronta c'è già pronta c'è già pronta nel garage la lambo raga brutta storia è già lì figa è già lì io nell'arco di cinque anni la vorrei la lambo vorrei togliermi questo sfizio la voglio la voglio mi piacerebbe mi piacerebbe ma invece un bel ferrarino eh la ferrari tanta roba tanto io compro solo roba italiana per principio nel senso eeeh a parte la moto che fa è giapponese ok ma tex non mi ha scritto niente ragazzi però la moto guzzi non fa le custom dove pensa di andare questo morto buono attenzione che questo è in aglio la vita di non rompere i gol è andato ma no ancora no easy ma non penso duri molto dai come la lambo ora è tedesca ma che c***o di te è da me è da me venga 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 sto arrivando è uscito è uscito io lo vedo ah no mi ha acceso ma non penso duri molto dai no non ci credo l'ho craccato l'ho craccato buono buono c***o dai non so perché carri easy dagli easy c***o dai c***o dai c***o dai è mio no no eh no 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 c***o dai pizza mi devi fare pizza allora io le dico se fare un altro rando e fare un altro no no basta basta eh devi faitarselo mi sa eh sì ce lo devi faitarselo è un po' buono eh mi chiedo un attimo di silenzio ti provi re no prima mi sistemo e poi ti provo buono 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 non mi sembra più sveglio della cucciolata però me lo lascia a me eh tenga tutto eh tenga tutto lascio tutto non faccio niente è forte? no te la fa? si vada let's go si c***o ha sbombardato? eh figa gli ho sparato due colpi in faccia minchia avevo anche il pompa oro easy avevo anche io il pompa oro ma si dai questo c***o anche la stuola dell'obstituto ahia dai ahia